La stazione dell'alta velocità nel Vallo di Diano sempre più vicina. Sono queste le parole con cui il consigliere regionale Corrado Matera annuncia la decisione, pare ormai definitiva, di RFI di collocare la fermata intermedia che metterà in collegamento il sublotto B e il sublotto C nell'area di confine tra i comuni di Padula e Buonabitacolo, ossia tra gli svincoli dell'A2 e dell'ASS 517 Bussentina. Era il 5 febbraio 2021 quando l'On. Matera chiese con apposita nota alla dottoressa Vera Fiorani, amministratore delegato di RFI, di individuare una stazione intermedia dell'alta velocità nel Vallo di Diano. Posizione questa che venne ribadita anche nell'incontro tenutosi a Roma il 3 maggio 2021, in cui Matera e Angelo Raffaele Marmo ebbero un colloquio con la dottoressa Fiorani presso il palazzo di RFI. Come si evince dagli allegati diffusi dal consigliere regionale di Teggiano, viene specificato in maniera precisa e puntuale che la fermata intermedia, sempre ipotizzata nel progetto, trova ora la sua esatta allocazione a Buonabitacolo. Ho seguito giorno per giorno, spiega Matera, tutte le procedure e le analisi che RFI, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture, ha effettuato nel corso di questi anni e dell'ultimo anno in particolare. Quanto sostenuto da un anno a questa parte, insieme con l'amico Angelo Raffaele Marmo, viene confermato dal piano di fattibilità tecnico-economica del primo sublotto battipaglia romagnano. Nella relazione generale sull'intero progetto dell'alta velocità, evidenzia Matera, la stazione sarà ubicata nel Vallo di Diano, nei pressi di Padula Buonabitacolo, non lontano dallo svincolo autostradale. Il posto di Matera, correlato di foto, fuga quindi ogni dubbio sulla realizzazione della stazione nel Vallo di Diano, nonostante da altri territori continuano i tentativi di modifica del tracciato e di localizzazione della stazione. Una modifica difficile da realizzarsi. I documenti diffusi da Corrado Matera sono atti che prevedono anche un impegno di spesa sulla base degli studi tecnici. Un'eventuale modifica comporterebbe un rifacimento della progettualità sia tecnica che economica, allungando i tempi per il completamento dell'opera. I sublotti che interessano la stazione nel Vallo di Diano, ossia sublotto B Romagnano Buonabitacolo e sublotto C Buonabitacolo Praia, sono considerati lotti funzionali all'intera opera. Non a caso Matera ha pubblicato anche la foto in cui viene evidenziato che per il raggiungimento dell'obiettivo primario per la realizzazione dell'opera, ossia la velocizzazione dei tempi di percorrenza da Roma a Reggio Calabria da percorrere entro le 4 ore, tra i vari lotti vengono indicati come prioritari i primi tre e il tratto che interessa il Vallo di Diano con la relativa stazione e il lotto 1 Battipaglia Praia. Matera però mette in guardia il territorio evidenziando come non bisogna abbassare la guardia. Da altre aree infatti si continua a fare di tutto per modificare tracciato e localizzazione della stazione. Non possiamo che essere soddisfatti di questa nuova tappa raggiunta, conclude Corrado Matera, ma non ci fermeremo nel seguire il progetto fino alla sua realizzazione, contrastando qualsiasi azione diretta di indebolirne la tenuta.